Io ti ho portato le bistecche, se sono troppo... Ha detto, se volete farne due, due, se volete tre. Se no, uno è congelato. Questi qui, io ne ho già mangiate due, però sono dure. Ma quanta roba mi hai dato qui. Quello che non bevi, lo bevo io. Quello che non bevi, avanzano, lo bevo io, insieme alla terza bistecca. Queste si fanno dritto. Si devono far cuocere scongelare. Si mettono dentro, pian pianino, pian pianino. Io ne ho mangiate due pacchette, al terzo e al vostro. Dai, 5 di questo mele. Ma si, questo ne metti nell'olio e gli dai due. Devi friggerlo un po'. Se le scongelo diventano brutte, non vanno bene scongelate. Guarda che belle mele che ho, ma guarda. Sai cosa ha detto prima? No, se le freghi, diventano ancora più belle. Ma non capivo se si riferiva alle mele o alle calze. Ritira questi, ritira questi. Ma se bisogna scongelarli. No, non bisogna scongelarli. C'è scritto. Allora, sei entrata in questa casa dicendo, ho portato qui la roba perché fa più caldo e si scongela. Queste qui scongelate, le bistecche, le bistecche, le bistecche che sono veramente buone. Io vorrei un frigo da tirar fuori tutto e vedere cosa c'è dentro perché c'è dentro un misto di robe che non capisco più neri, nemmeno io. Adesso mi hai fatto vedere sempre. Eh, questo è cattivo perché più ne bevi, più te ne voglio far bere. Perché c'è lo zucchero? Eh sì, però è buono. Mamma, che buono. Guarda che ne bevo tutto. Vengi ti dice. Ti ricordi? L'ho trovato un altro giorno e quindi adesso li sto riguardando i video di quando abbiamo fatto gli auguri di buon anno di due anni fa. Eh, a chi lo abbiamo fatto? No, per i parenti che avevamo mandato. E dovevi dire, vi auguro un anno pieno di gioia e felicità. Quante volte l'hai sbagliato? Ce li ho tutti ancora in fila. Adesso uno al giorno. Mettilo nel frigo, lo mettilo magari ma nel frigo sopra. Se si scongelano e diventa molle, pup pup pup, non sono buoni. Ma non lì! Ma allora, ti dico, se io lo metto lì, tu te ne dimentichi e stai tranquilla. No, devi mettere, non sono più buoni se sono scongelati. Devono scongelare, 5 minuti prima devi tirare. Mettili nel frigo. Ma li mangiamo a pranzo? Ma certo che li mangi a pranzo. Ma tra quanto vuoi che pranziamo? Sono le 11. Ma figurati. L'hai scritto là? Adesso io ho tolgato il polone di coppia, ho fatto polenze di polone. Grazie. Grazie.